ci siamo siamo in diretta su facebook sulla pagina facebook di confronti buonasera a tutti ancora buonasera e benvenuti a teologia e società mandiamo la sigla non perdete Grazie a Valeria Brucoli che ci segue per le questioni tecniche, grazie al direttore Claudio Paravati, con voi anche Stefania Sarallo di Confronti, ma soprattutto con voi Pulvio Ferrario e Cristina Simonelli che sono i curatori di questo spazio, e coloro che ci hanno accompagnato nel corso di questi mesi, che hanno avuto il merito di rendere fruibile al pubblico generico degli argomenti di solito trattati soltanto all'interno dell'Accademia, di rendere la teologia fruibile al grande pubblico attraverso, invitando delle persone, devo dire, di grande spessore e di alto livello. Quindi buonasera a Pulvio e Cristina e grazie ancora sempre per la vostra collaborazione. Buonasera. Grazie a tutti. 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 www.teologhe.org che si può visitare dal quale si possono meglio cogliere anche le questioni le attività però detto proprio in termini estremamente che non si muove se impiantato niente vediamo interrompo riparto e se no lo dico senza vediamo così se è più semplice ecco scusate è detto proprio in termini estremamente sintetici allora si tratta di una realtà che esiste come associazione dal 2003 è 2003 2021 freccia in avanti vorremmo continuare diciamo sono 18 anni che questa attività ha raccolto questa associazione ha raccolto un interesse una visione che già che già c'era non è stata inventata e diverse dalle persone che sono qui con noi stasera ad esempio erano già produttrici di teologia femminista all'epoca dell'inizio dell'associazione e si tratta di un'associazione ecumenica che fa teologia in prospettiva ecumenica e la farà sulla base della di una prospettiva di differenza sessuale di una prospettiva di genere conta al momento circa 160 socie di cui fanno parte anche alcuni uomini teniamo un termine femminile inclusivo in questo in questo caso e quindi siamo tante le quattro vedremo sono esemplificative è presente soprattutto in italia evidentemente ma diversi agganci anche in europa ad esempio sia elisabeth green che adriana valerio hanno avuto dei ruoli importanti nell'associazione delle teologhe europee ed è in rete con una serie di attività ecclesiali nelle chiese e anche e civili dunque da una comune visione una prospettiva di genere di differenza che valorizzi lo studio la realtà lo studio della teologia in questa prospettiva nascono molte pratiche diverse non soltanto libri ma anche libri e abbiamo una divisione in zone geografiche un rapporto con le biblioteche con diverse associazioni sia locali che con il coordinamento delle associazioni teologiche italiane essendo teologhe abbiamo non tutte le 160 però in buona parte anche un una presenza nell'insegnamento della teologia sia in facoltà teologiche in alcune in facoltà in università statali e poi c'è stato un importante corso online di teologia delle donne dico importante perché per noi era una prima volta abbiamo raccolto circa 800 iscrizioni per cui per noi è stata una cosa molto importante abbiamo anche una serie di pubblicazioni non solo carte dicevamo anche le altre volte non solo libri ma anche tre collane che sono coordinate direttamente dal ct e delle collane amiche con cui siamo in grande collaborazione la bibbia è sbagliato alla bibbia e le donne sbagliato un'altra volta madri della fede e altri abbiamo un blog e una newsletter solo un'ultima cosa su alcuni dei libri e delle tre collane che abbiamo una è sui generis stiamo programmando adesso il trentesimo volume questo è l'ultimo che è uscito viaggiatrici lo sguardo delle donne sul mondo per dire se ci occupiamo anche di cose svariate e diverse e di teologhe e teologie siamo al settimo volume una è un lavoro più di tipo anche storico però non solo ricordo forse certo lo conoscete a cura di letizia tomassone donne di parola pastore di acone predicatrici nel protestantesimo italiano e poi e ci teniamo anche abbastanza a questo aspetto perché rende ragione del fatto che ci occupiamo anche di teologia appunto e soprattutto di teologia la collana exusia e vuole rivisitare i trattati teologici diciamo così cambiandone i modelli ridiscutendo nei modelli in prospettiva di genere sono usciti già tre volumi incontri fatto insieme a elisabeth green le istituzioni ecclesiali alla prova del genere in principio di marinella ferroni e derunz sulla creazione e possiamo annunciare nel corso del 21 il prossimo volume di ecclesiologia discepoli e discepoli rileggere la chiesa a cura di scritto non a cura di fulvio ferrario e di serena noceti perché questo questi tipi di questi volumi questa nostra serie vuole non solo rivisitare ma rivisitare in forma circolare dialogica mettendo insieme diverse prospettive confessionali o comunque diverse discipline potresti che alla fine sia un volume di escatologia ma senza ma sai noi se non avesse non fossimo donne di scommessa non saremmo qui non saremmo in associazione quindi noi ci crediamo infatti quello per noi il volume numero 4 e che sta per arrivare a buon intenditore al pubblico poche parole ma sarà così ecco e quindi diciamo proprio in termini estremi questa la presentazione però sul sito volendo si può trovare di tutto di più e così si trovano anche quasi tutti aggiornati i profili delle nostre socie anche delle nostre relatrici delle quali che cosa posso dire sarebbe troppo da dire quindi me la sbrigo facilmente intanto come avete visto dalla dal banner dalla piccola locandina sono sicuramente tutte e quattro teologhe che si differenziano per tanti aspetti si differenziano anche per le discipline di cui si occupano per cui le pubblicazioni sono tantissime alcune sono anche molto note e quindi non starò a fare l'elenco di tutte dico proprio soltanto qualcosa di minimale e adriana valerio è teologa e storica si è occupata e si occupa è un vulcano nella produzione soprattutto di storia di donne e di donne chiesa il potere delle donne nella chiesa tutti i titoli di questo genere ma ne sta producendo altri elisabeth green è una teologa se dovessi dire in chiave diciamo della teologia che usiamo le denominazioni delle facoltà cattoliche direi sistematica poi lei dirà meglio e perché si occupa di temi teologici e cristologici proprio i temi hard diremmo noi della teologia ed è anche nel ministero e pastora battista nel al momento a cagliari e renata vedendo si occupa e teologa e si occupa in maniera particolare di dialogo interreligioso soprattutto il rapporto con l'islam parla anche arabo malar ci parlerà in italiano questa volta è anche parte di un tavolo c'è interreligioso teologhe musulmano e femministe è un best seller è poi stato tradotto eccetera silvia zanconato è teologa e biblista è last but not least perché effettivamente le scienze bibliche sono state fin dall'inizio al cuore della produzione teologica femminista e silvia e si occupa di tanti aspetti è anche una grande esperta di fantascienza ma sapesse mai dire a lei come gioca questo doppio registro e fra le varie pubblicazioni di in ambito biblico si occupa di quello che forse per la classe dei teologi uno degli aspetti più complessi tradurre in un linguaggio accessibile senza far cadere il discorso le tematiche bibliche per la fascia dei bambini degli adolescenti dei giovani ecco non direi altro perché si presentano da sole sono molto note e poi interrogando le sentiremo molte meraviglie grazie della vostra presenza cari amiche grazie cristina a questo punto passerei la parola a fulvio se sei d'accordo fulvio sono d'accordo ringrazio anch'io eh cristina per questa presentazione così brillante eh che già come dire eh sintonizza eh con 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 gli argomenti e mi rende contento di avere avuto l'occasione di organizzare eh questa serata però adesso basta Adriana Valerio entriamo in media stress lei è di formazione storica dal punto di vista degli studi di genere lei come vede il rapporto del quale io discuto spesso sia con gli esegeti cioè con gli studiosi diciamo di storia del cristianesimo primitivo sia con gli storici della riforma eccetera lei come vede il rapporto tra teologia e ricerca storica buonasera a tutti eh non è facile questo rapporto e io l'ho sperimentato perché ho frequentato sia la facoltà di stato di storia e filosofia a Napoli sia la facoltà di teologia dove nella facoltà di stato quindi con un impostazione storica c'è molta diffidenza nei confronti della teologia ma anche nella teologia eh la disciplina storica non è una disciplina molto considerata cioè si fa ma almeno importante rispetto ai grandi trattati di teologia le grandi discipline e perché questa questa difficile rapporto perché effettivamente i metodi sono diversi e anche in qualche modo anche in contrasto perché la storia ehm non parte da una verità già data quindi è una una ricerca è una è un metodo eh relativo contingente che molte volte urta con invece un'impostazione teologica che parte già da una verità di fede in qualche maniera che si vuole eh così difendere quindi diciamo non è facile questo tipo di rapporto perché non è facile mantenere una un metodo storico critico e conservare però anche uno sguardo teologico che consente di di cogliere degli elementi che molte volte lo storico non riesce a cogliere faccio un esempio perché altrimenti parlando teoricamente è difficile capire quali sono le questioni la parla proprio della mia tesi in storia del cristianesimo alla facoltà eh direttore filosofia di napoli la mia la tesi era eh sulle eh sulle su blandina cioè sulle martiri cristiane ebbene lì nel nello studiare questi documenti che riguardano appunto il cristianesimo definitivo c'è una notazione di una geografo che dice che quando i cristiani vedono questa donna anziana schiava al palo per essere eh martirizzata vedono Gesù Cristo vedono Gesù a nel croce cioè loro vedono nel corpo di quella donna eh Gesù perché è la testimonianza che richiama a Gesù non il sesso e questo mi ha molto colpito perché poi nella teologia che si è sviluppata specialmente con la scolastica noi sappiamo che le donne sono escluse per esempio dal ministero perché devono rappresentare anche fisicamente eh il corpo maschile di Gesù che era un maschio e quindi questa considerazione di tipo storico porta anche delle domande alle formulazioni teologiche che si sono verificate successivamente un altro esempio da questa volta una tesi in teologia sempre in storia del cristianesimo vicino in Campania c'è la c'è una una un monastero si chiama il Goleto che è un monastero eh che io sono da visitare studiando i documenti ho visto che è un monastero doppio cioè maschile e femminile siamo nel millecento eh dove le donne erano le badesse che avevano un governo anche sugli uomini quindi ci troviamo davanti la testimonianza di un monastero femminile dove le donne esercitano un potere anche sul clero che è sottomesso a loro e il richiamo è a Maria che Maria governa la chiesa un'immagine quindi mariana però di una Maria non silenziosa e sottomessa ma una Maria che governa la chiesa e anche qui è una una traccia quindi di una lettura anche della presenza femminile che non è sempre nel segno un po' come stato tramandato della subordinazione e del silenzio ma invece è un segno di tanti momenti della storia dove le donne hanno esercitato legittimamente riconosciuto un'autorità una tenevolezza un magistero anche sugli uomini e quindi mettendo in discussione una serie di presupposti antropologici e teologici che invece poi sono stati eh sviluppati nel nel corso dei secoli. Grazie. Io a questo punto vorrei rivolgere una domanda alla professoressa Green. Professoressa lei in diverse sue pubblicazioni ha affrontato il tema del rapporto esistente tra violenza contro le donne e cristianesimo individuando alcuni aspetti del pensiero cristiano che a suo dire legittimerebbero la violenza contro le donne quindi l'esortazione da parte delle chiese a facere il portare la croce il perdonare. Oggi sembra che le chiese invece invitino le donne ad uscire fuori a parlare a denunciare. Mi ha sorpreso ad esempio eh la affermazione d'invito da parte del Papa lo scorso febbraio che letteralmente cito dice invita a pregare a non ignorare le testimonianze delle vittime di violenza che hanno il coraggio di rompere il silenzio e mi è piaciuto molto questa affermazione rompere il silenzio il silenzio cui le donne per secoli comunque sono state condannate. Allora a che punto siamo? Che cosa le chiese hanno fatto nell'ultimo negli ultimi decenni? Eh e cosa potrebbero ancora fare per combattere la violenza di genere e accompagnare le donne in questo percorso di liberazione? Buonasera a tutte grazie di questa questa domanda. È ovvio che noi non possiamo che rallegrarci quando le chiese e la figura ovviamente del Papa eh denuncia la violenza sulle donne perché quando parli il Papa ha una grossissima eh risonanza. Però io vorrei ricordare che questo tipo di denuncia è frutto di dell'enorme lavoro svolto eh dalle donne eh negli ultimi nell'ultima decada del del secolo scorso quindi parlo del decennio di solidarietà eh delle chiese con le donne eh in cui abbiamo le chiese in Italia le donne delle chiese in Italia le donne eh hanno lavorato e portato all'attenzione era un decennio eh convocato dal consiglio ecumenico delle chiese eh hanno portato all'attenzione delle chiese eh la questione del della violenza di genere da quel lavoro poi è nato l'osservatorio interreligioso eh contro la violenza sulle donne. Il decennio finisce nel novantotto eh c'è un documento firmato dalle tre confessioni in Italia nel duemilaquindici quindi un po' di tempo hanno messo e poi subito dopo eh si si forma l'osservatorio. Ehm io ritengo che ci sono diverse cose cioè hanno fatto un passo se ne parla ma ci sono eh alcune cose ancora da fare. Allora innanzitutto dal mio punto di vista c'è bisogno comprendere che la violenza maschile sulle donne è per usare un termine biblico la pietra angolare del sistema sociale patriarcale. Quindi c'è da eh intendere la violenza sulle donne non come fatti isolati ma come parte di un trama eh al quale le chiese partecipano. Eh quindi ci vorrebbe eh un po' un cambiamento di eh prospettivo. Quindi io vorrei che si parlassi meno della violenza maschile sulle donne e di più eh è come accompagnare le donne vittime di violenza una cosa che hanno fatto le donne fanno le i centri antiviolenza l'hanno fatto egregiamente eh negli ultimi trent'anni si parlassi un po' meno di questo e un po' di più sulla violenza eh della violenza maschile. Cioè che si eh denunciasse il il problema non è quello delle donne che sono vittime. Il problema è la violenza maschile e quindi che eh le chiese si rivolgessero agli uomini eh e facessero un lavoro di cambiamento di prospettiva eh eh degli uomini. Ecco per questo quindi eh violenza come parte di un un trama sociale. Due eh parlare eh meno delle vittime e di più sulle persone che eh commettono eh violenza. Tre che preparassero perché da quello che parlo con anche degli amici sacerdoti non non c'è una preparazione a livello pastorale da parte degli operatori pastorali dei sacerdoti eh per riconoscere i segni della violenza sulle donne. Come intervenire sia eh con i i maltrattanti sia con le maltrattate. Quindi ci vorrebbe una una preparazione pastorale ma soprattutto che cosa ci vorrebbe dal mio punto di vista di teologa come ha detto Cristina NA Sistematica ed è qui le chiese si fermano è una rilettura dell'odine simbolico cristiano. Quindi una rilettura di quegli aspetti del cristianesimo che da da trento quarant'anni da queste parti sono state individuate come ehm eh come momenti del parti del messaggio cristiano che letti in un certo contesto cioè patriarcale ehm possono fomentare la o creano eh un 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 ambiente in cui la violenza sulle donne eh è pensabile ed è fattibile. E quindi un lavoro eh teologico. Qui le chiese cioè tendono si possiamo aiutare le vittime va tutto bene cerchiamo di farle noi siamo bravi ma se si tratta di mettere in questione quella eh alcuni elementi eh del del appunto della teologia ehm ripensarli in un contesto diverso interpretarli in un tradurli in un in un contesto diverso in modo che non siano possibile eh che non coadiuvino eh la violenza qui ho la l'impressione che le chiese si fermano eh tanto posso anche accennare al dibattito eh eh che c'è stato ultimamente su riforma se possiamo rivolgerci o parlare eh di Dio in termini eh femminili che è una delle tante strategie che hanno messo in atto le teologhe per contrastare un sistema eh un teologia chiaramente patriarcale e questo ha generato un dibattito quindi abbiamo dovuto riprendere ehm qualcosa che noi pensavamo fosse eh acquisita all'interno delle chiese eh del protestantesimo storico vediamo che non è ancora acquisito e quindi eh questo vuol dire che le teologhe le le donne che si occupano di teologie sono costretti a reiterare a ricordare a riportare alle memoria eh cosa che eh cioè pensieri teologici che hanno già eh trenta, quaranta, cinquanta anni di vita ed è qui che ehm eh vorrei dire l'importanza del lavoro del coordinamento teologhe eh italiani perché perché ci 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 facciamo questo lavoro di reiterazione continua in testi diversi della teologia e il pensiero delle donne. E grazie per condividere con noi questa reiterazione, questo recupero di di tematiche che fanno parte della teologia femminista eh da decenni ma che come ha sottolineato nella sua ultima pubblicazione eh come in una spirale ritornano, vengono rielaborate e ripensate. eh professoressa Valerio nella in parte lei ha già risposto cioè nella sua prima risposta c'era un accenno a questo tema che volevo affrontare adesso ma nella sua ricerca personale e con l'occasione le chiederei Cristina Simonelli ha detto c'è molto in laboratorio eccetera ecco di darci qualche ehm apertura su quello eh su cui sta lavorando ehm quali prospettive inedite sono state aperte dall'approccio di genere nel suo lavoro? Beh sì io in tutti questi anni mi sono occupata di dare visibilità eh attraverso la ricerca storica di tante donne che sono state dimenticate oppure non erano per niente conosciute e questo mi ha portato per esempio a scrivere un manuale di storia della chiesa dove un manuale di genere dove penso per la prima volta eh e mi sono messe insieme le storie delle donne e degli uomini che hanno ehm vissuto la chiesa e quindi la novità è rileggere la storia eh tenendo conto di tutte le componenti ehm che eh che hanno cosa con i protagonisti delle protagonisti della storia del del cristianesimo e quindi questo è un grande contributo che chiaramente è un primo passo perché è una uno stimolo affinché tutte le ricerche portino a a dare sempre più visibilità e forza eh alle donne perché significa ricostruire una tradizione dove non c'è soltanto il pensiero l'azione eh dell'uomo di chiesa ma dove c'è veramente rappresentato il povero di Dio nella sua eh complessità una novità che che è nata dalle mie ricerche è stato proprio un un rapporto che ho avuto con un un archivio un'importanza della storia e che si ha a che fare concretamente con del materiale eh no di pensiero di direi ed è stato proprio la la scoperta eh di manostretti legati a una donna del cinquecento fiorentina domenica Narducci una discepola di Savonarola e quella ricerca e quello studio è stato fondamentale perché perché per la prima volta io mi sono trovata davanti a delle prediche cioè una donna del cinquecento che predica cioè e ho pubblicato infatti le dieci prediche che ancora si conservano di questa donna e mi ha sorpreso perché nel mille cinquecentosette domenica da paradiso così si chiama domenica Narducci questa fiorentina mette in discussione l'interpretazione che è stata data dai teologi sulle donne tacciano in assemblea questa pericope presente nella prima lettera ai corizzi dicendo San Paolo certamente non poteva mettere il bavaio lo spirito santo perché lo spirito santo chiama chiunque perché la chiesa ha bisogno eh dei profeti delle profetesse anche delle donne e si ha detto alle donne di tacere l'ha detto alle donne di Corinto non a tutte le donne del mondo mille cinquecentosette pensiamo che ancora oggi nella chiesa cattolica quel divieto no ehm proprio è un eh un stato è usato perché le donne non abbiano la possibilità di di predicare eh pubblicamente e allora questo mi ha aperto un mondo qual è questo mondo che mi ha aperto? Il fatto che la Bibbia non c'è soltanto una esegesi maschile una storia delle esegesi maschile ma c'è anche una storia delle esegesi femminile cioè le donne hanno avuto un rapporto con la Bibbia e hanno avuto anche la possibilità di interpretarla e di proporre anche delle nuove interpretazioni o comunque diverse interpretazioni rispetto a quella eh tradizionale e così è nato un filone il filone della storia delle esegesi femminile che è confluita in questo grande progetto la Bibbia e le donne che è un progetto internazionale che vedo come in poste donne eh europee di lingua tedesca inglese spagnola italiana dove eh si affronta il testo sacro non solo per rileggere eh il testo alla luce delle esegesi che anche che le esegesi ehm rientra nel nella ricerca storica no? Perché infatti si usa il metodo storico critico oggi e quindi non soltanto per rileggere il testo sacro e mettere in luce tutti gli elementi che riguardano le donne ma anche come ricostruire una storia delle esegesi nell'Occidente perché la Bibbia è stata usata contro le donne e la Bibbia è anche stato il grande elemento anche di liberazione delle donne perché attraverso il testo sacro le donne hanno trovato anche il modo di liberarsi chiaramente ma noi non possiamo non conoscere il testo sacro e la sua interpretazione proprio per gli esiti che ha avuto nella storia dell'Occidente e quindi questo grande progetto che aumenti i volumi in quattro lingue e sono dieci anni che va ehm diciamo che sta procedendo quasi terminata l'edizione tedesca poi l'italiana purtroppo trova più difficoltà perché è più difficile eh far circolare questi testi ehm insomma diffondere queste ricerche che sono ricerche eh certo accademiche eh ma anche eh divulgative cioè un livello alto che non è sempre facile ehm diciamo far conoscere perché appunto eh forse il nostro pubblico ha bisogno ancora di essere educato a questi temi che sembrano sempre nuovi infatti a volte scherzando tra noi teologi diciamo siamo quarant'anni che diciamo sempre le stesse cose no? E perché evidentemente per quanto le diciamo sempre ma c'è ancora tanta diciamo ignoranza no? Tante cose non si sanno per cui ehm diciamo ehm sono fondamentali queste ricerche e questa messa in comune di noi cattoliche e ebrei protestanti che confluiscono tutte qua anche uomini che partecipano a questi studi perché confluiscono in una grande rilettura della storia per riconsegnare un modo diverso di leggerla perché è anche un modo di rifondare la tradizione e l'interpretazione soprattutto del testo sacro. cattoliche ebrei protestanti Elisabeth Green il coordinamento teologo italiane sin dalla sua costituzione ha adottato una prospettiva che è ecumenica e ritiene che l'associazione sia una risorsa in tal senso e se siccome e sono mai emersi all'interno del del gruppo nel nel momento del lavoro delle a causa di queste differenze interne del degli ostacoli magari dei dei problemi dovute a queste differenze io vorrei rispondere subito e dire di no non non ci sono io personalmente e credo anche con con le mie colleghe non ci sono mai stati ostacoli anzi questa diversità confessionale è ovviamente un arricchimento vorrei ricordarvi che la teologia femminista che è solo un ambito della teologia delle donne ma comunque fu ecumenica dalle origini piuttosto credo che ci sia un un problema di un diverso ordine di problema ed è questo è chiaro che eh di queste centosessanta soci eh sarebbe interessante sapere quante sono eh di confessione che non sono cattolica non è cattolica ecco perché quello che accade per forza di cose eh nelle prendiamo le le confessioni cattoliche eh e le le confessioni eh evangeliche eh sappiamo tutti che le donne cattoliche non possono accedere al eh il ministero ordinato e quindi possono però accedere agli studi teologici e l'hanno fatto in grande e quindi eh c'è un fior di di teologhe eh cattoliche mentre nel protestantesimo le donne potendo accedere al ministero pastorale eh hanno eh hanno fatto quello e quindi credo che la vocazione teologica delle donne protestanti in Italia si svolge soprattutto all'interno delle chiese adesso eh la il ministero pastorale è un ministero eh molto ehm che prende molto tempo e quindi eh è difficile che si riesca ehm si riesco ad abbinare che sarebbe il mio ideale quello che cerco di fare la ricerca teologica con eh il ministero eh pastorale e vorrei anche dire perché come chi chi mi conosce sa io sono una criticona bisogna anche dire che le chiese evangeliche non hanno mai eh promossa la una ricerca teologica da parte delle donne quindi c'è una situazione nel Citi è molto molto sbilanciato questo si vede eh in alcuni cose per i temi che ah se tende a seguire un ordine del giorno ehm del detta non dettato però suggerito dagli impegni e delle preoccupazioni della chiesa eh cattolica in Italia una teologia che tende dal mio punto di vista protestante essere ecclesiocentrica ehm e quindi io vorrei invitare anche le donne eh le donne protestanti ad iscriversi in modo che si aprisse un po' di più il il tipo di teologia che insieme eh possiamo fare termino dicendo che io ho ho sempre imparato tantissimo eh dalle mie colleghe eh cattoliche e spero anche di essere un stato una piccola fonte di stimolo eh anche anche a loro quindi problemi direi di no uno sbilanciamento proprio per i motivi che ho spiegato. Grazie. A questo punto farei una brevissima pausa e chiederei al maestro Alessandro Sgobbio di intervenire per un piccolo sacco musicale. Alessandro Sgobbio di intervenire per un piccolo sacco musicale. Alessandro Sgobbio di intervenire per un piccolo sacco. Alessandro Sgobbio di intervenire per un piccolo sacco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.